Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Tanti ex concorrenti si stanno esprimendo sulla rottura fra i due, oggi è arrivata l'opinione di Manila Nazzaro, affezionata a entrambi Sulla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie si stanno esprimendo tutti. Le opinioni di chi li ha vissuti nella casa del GFV però non passano inosservate, visto che hanno avuto modo di vivere la nascita di questo amore E alcuni forse stanno vivendo anche la fine, almeno chi è rimasto in contatto con loro due Se ieri Gianmaria Antinolfi, che è legato a entrambi ma più a Manuel, ha detto che secondo lui Bortuzzo è arrivato a una decisione perché non era più tranquillo, oggi è intervenuta Manila Nazzaro sull'addio fra i due O meglio, le hanno fatto una domanda e lei ha detto la sua punto per Antinolfi, insomma, si è verificato ciò che è successo già nella casa, a un certo punto Manuel non era più sereno e ha truncato ogni rapporto con Lulu Questo perché la mancanza di tranquillità si ripercuote sul suo stato di salute, insomma, lo ha ampiamente spiegato al grande fratello V Nel frattempo però si è scatenata una bufera sulla famiglia Bortuzzo, colpevoli secondo alcuni di essersi messi in mezzo e aver interrotto il sogno della principessa Lulu Lei ha sostenuto che il suo carattere non c'entra nulla, ma lo sosteneva anche al GF VIP quando rincorriva a Manuel per tutta la casa Oggi a difendere la famiglia Bortuzzo è stata proprio Manila Nazzaro Intervistata da Mondotf24, ha ribadito la sua opinione, Manuel e Lulu sono troppo diversi Non solo caratterialmente, ma ciò che si intuisce dalle parole di Manila è che i due sarebbero i momenti della vita del tutto diversi Ecco cosa ha detto. Ho sempre visto due persone diverse, molto diverse. Credo che Lulu debba fare ancora un percorso e che la decisione di Manuel non tolga nulla alla bellezza dell'animo di quel ragazzo e della sua famiglia Invece la decisione di Manuel Bortuzzo di lasciare Lulu ha scatenato i fan della Fatina contro papà Bortuzzo in particolare Per la Nazzaro tutto ciò è ridicolo, assurdo e insopportabile. La scelta di interrompere questo rapporto non deve togliere nulla ai Bortuzzo, secondo lei Non si può mettere in dubbio la grandezza d'animo dei genitori di Manuel che hanno superato con grande amore, forse orgoglio una tragedia che avrebbe distrutto la gran parte delle famiglie Se da una parte Manila ha difeso la famiglia Bortuzzo, dall'altra non ha dimenticato di sottolineare anche la bellezza di Lulu E secondo l'ex Jeffina non è detto che sia finita per sempre Vorrei che si proteggesse la bellezza di Manuel e della sua famiglia la bellezza di Lulu nel suo animo Che è molto diverso per caratteristiche e vita vissuta. Magari questa roba farà dei giri immensi e poi ritorneranno, non lo so In effetti sembra una scena già vista, i due si sono già lasciati e hanno litigato nella casa del GF VIP 6 salvo poi tornare insieme, più uniti di prima Forse la convivenza aveva fatto sì che si ritrovassero in poco tempo, nella vita reale potrebbe essere più complicato Ma mai dire mai, Manuel e Lulu torneranno insieme? Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao